E do con molto piacere la parola a Marco Tugliani, partner Interera Consulting. Il titolo del suo intervento è analisi delle criticità nell'integrare le AI di terze parti nelle aziende. Buonasera a tutti. Prima di tutto ringrazio un po' l'organizzazione, il dottor Garofalo e Eliana per questo invito. Ormai sono tre anni che salgo su questo palco e spero ancora oggi di dare un contributo. Oggi abbiamo fatto una maratona su questi temi relativamente all'intelligenza artificiale e dal mio punto di vista abbiamo trattato come utilizziamo questa intelligenza artificiale nell'ambito della cyber security e dal mio punto di vista le abbiamo toccate un po' tutti perché abbiamo capito come utilizzeremo un pochino l'intelligenza artificiale per incrementare la postura di sicurezza. Ci sono stati in un panel, abbiamo sentito dei fornitori che hanno detto che nei loro SOC utilizzeranno intelligenza artificiale per fare analisi preventiva. Va bene, sono contento perché anch'io ho fatto il CISO per tanti anni e al tempo ancora queste tecnologie non erano utilizzate. Quindi sono contento che siamo arrivati a questo punto. Dall'altro c'è anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a livello aziendale che per forza di grosse dovrà utilizzare la cyber security. Perché? Perché naturalmente abbiamo parlato che sono delle nuove applicazioni, avranno necessità di avere dei requisiti e anche qua mi sento di dire che anche qui sono abbastanza preoccupato. Poi piano piano vi spiegherò perché. L'ultimo fattore è quello che abbiamo detto che non solo chi difende utilizzerà l'intelligenza artificiale ma ci saranno i vari hacker, le varie società criminali, organizzazioni che utilizzeranno dei malicious software per poter attaccare utilizzando l'intelligenza artificiale. Allora mi pare di capire che il perimetro inizia a essere molto molto ampio. Aggiungo di più, probabilmente nella discussione che è stata fatta un po' di tempo fa a livello della Commissione europea, questo ve lo dico perché in Tellera come azienda, Tellera Consulting, che ha molte persone che lavorano nella stesura anche di alcune linee guida su alcuni temi importanti tra cui quelli dell'intelligenza artificiale, una delle discussioni più importanti è stato quello di classificare quali fossero tutte le applicazioni di intelligenza artificiale. Il risultato è stato che c'è stata una discussione che è durata per mesi e di fatto non si è arrivata a definire una lista completa perché tendenzialmente se avessimo avuto una lista completa avremmo più o meno risolto il problema perché io conosco quali sono gli asset su cui devo intervenire, conosco quali sono le applicazioni, inizio a capire quali sono le misure di sicurezza da inserire all'interno ma questo non è stato possibile. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, qui l'ho rappresentato nella slide, abbiamo degli utilizzi e dei problemi. Il primo è tutto quello che noi consideriamo come good AI, tutte quelle applicazioni che utilizzeranno l'intelligenza artificiale per il bene comune. Dall'altra parte c'è tutto il tema di compliance che andrà a risolvere una parte dei problemi perché io in questo momento vorrei mettere sul tavolo già un altro problema che poi tornerà sul fatto del discorso delle terze parti. L'AI Act viene utilizzato nel contesto europeo ma di fuori del contesto europeo sicuramente ci saranno altri tipi di regolamenti, ci saranno altri tipi di regole ma che non saranno uguali e quindi dovremmo capire come l'Europa in questo contesto si posizionerà se vuole essere trainata ad esempio dagli Stati Uniti o deve essere naturalmente una delle comunità che deve trainare tutti gli altri paesi nel mondo e poi vi racconterò il perché. Ultimo tema è quello che abbiamo delle applicazioni, le abbiamo detto, e queste devono essere governate, c'è un problema di governance assoluto dell'intelligenza artificiale. Perché parlo di terze parti? Perché in tutta la mattinata e anche nel pomeriggio abbiamo parlato di queste applicazioni e io in modo provocatorio chiederei ma come le sviluppiamo tutte queste applicazioni, come utilizzeremo tutta questa generative AI? Sicuramente le aziende cliente spenderanno dei soldi ma non spenderanno dei soldi solamente all'interno della propria azienda perché ci vorrebbe un budget infinito a questo punto adopereranno dei servizi esterni e quindi ci saranno dei fornitori che definiranno, che forniranno un servizio con delle applicazioni di intelligenza artificiale. L'abbiamo detto quando abbiamo sentito che i fornitori ci daranno dei security operation center che utilizzeranno l'intelligenza artificiale. Ma io ancora una volta mi sentirei preoccupato perché se a livello europeo abbiamo definito una normativa d'ora e dove all'interno va a perpetrare, a chiarire qual è la responsabilità delle terze parti, cosa dovranno fare le terze parti per essere conformi a questo regolamento, per il principio di sussidiarietà. A questo punto aggiungo l'ulteriore fattore, ci sarà la quarta parte, il fornitore della terza parte che utilizzerà alcuni componenti per svolgere questo fatidico problema. E poi naturalmente l'ANIS II perché è stata citata, anche l'ANIS II sappiamo che oltre a definire un perimetro più ampio di attori anche lì si fa riferimento alle terze parti. Ora, i requisiti che abbiamo definito per le terze parti, anche in funzione di queste normative fanno capo a un threat landscape ancora una volta ben conosciuto perché parliamo di tutto il contesto di furto dei dati, il data sfiltration, le backdoor, la parte dei malware la parte del fatto di poter agire nel poter cambiare il codice queste cose le possono fare anche nelle applicazioni di intelligenza artificiale ma c'è un altro mondo, che è quello del trustworthy, che non è stato preso in considerazione che cosa la terza parte dovrà garantire al cliente per quanto riguarda la fiducia, l'affidabilità per quanto riguarda la trasparenza, per quanto riguarda i bias questi sono un problema, un filone di minacce che le terze parti dovranno gestire, governare e rendere ancora una volta trasparenti al cliente. Qui ho fatto, spero che sia utile, anche un po' per capire come sono state classificate perché si parla di AI all'ennesima potenza ma ci si riferisce solamente a una piccola parte delle applicazioni o di quello che vediamo con chat GPT, copilot e via dicendo ma c'è un mondo che scopriremo in questo momento perché lo stiamo vivendo adesso dove gli utenti dell'azienda si svilupperanno delle applicazioni in modo autoconsistenze vi ricordo le famose macro in Excel, abbiamo dovuto affrontare, mi ricordo 20 anni fa con il COBIT, gli obiettivi di controllo che erano associati per gli end user computing quindi gli Excel, gli Access eccetera, dove di fatto era stata una versione light in questo contesto dovremmo definire quali sono i nuovi framework sulla cyber security ma a questa volta non più in una versione light, visto il threat landscape che si è allargato e le problematiche si è allargato sarà un framework molto più strutturato e molto più pesante rispetto a quello che abbiamo visto oggi mediante il framework NIST, la ISO 27001 eccetera. Aggiungo anche un fattore per quanto riguarda le problematiche di fiducia, affidabilità, trust e bias è che l'Italia è un paese, e qui mi voglio un attimo anche collegare a quello che aveva detto Yuri è un paese fatto di arti e di mestieri Forse molti di voi non sanno che le attività, i task, i processi di queste arti e mestieri all'interno del contesto italiano non sono codificati dentro il mondo cibernetico quindi che cosa significa? Che quando noi diciamo che in modo irreverente che l'intelligenza artificiale viene autoalimentata dall'essere umano dirò di più che non solo verrà alimentata ma dato che molte attività, molte prassi non sono state codificate come quelle del falegname nel mondo del cibernetico le informazioni che avremo da queste applicazioni sono ancora peggiori di quelle che io mi posso aspettare ancora più pericolose perché prenderanno delle informazioni e deveranno il nostro sapere in funzione di quello per cui è stato alimentato e ritorniamo al concetto della qualità del dato Per ritornare al concetto dell'analisi del rischio perché ho detto non tutte le applicazioni saranno classificate e non è stato possibile classificarle allora è stata fatta un'analisi del rischio di questo tipo dove abbiamo detto che ci sono alcune applicazioni AI dove il rischio è inaccettabile quindi non potranno essere utilizzate e questo lasciatemi dire ci semplifica il lavoro perché quando all'interno di un'azienda capiremo che quelle hanno un rischio inaccettabile io neanche me lo pongo non ce lo proporremo il problema perché naturalmente queste non possono essere utilizzate a prescindere dei requisiti di sicurezza che vorremmo inserire dal fatto che avremo dei security operation center con delle tecnologie limitate e impensabili il problema si apre quando andremo a valutare tutte quelle applicazioni che hanno un rischio alto è naturalmente un rischio dove il livello di trasparenza richiede una serie di misure permesse fino ad arrivare a un rischio che è quasi minimale Ultima cosa che voglio aggiungere è che quindi a livello delle terze parti non solo avremo il problema di dover elaborare e capire la qualità del dato a livello di output ma anche a livello di paese se noi utilizzeremo dei fornitori al di fuori della comunità europea che utilizzeranno l'intelligenza artificiale vi lascio con questo punto interrogativo quale sarà la legge in cui sottoponiamo il dato che noi riceviamo come paese Italia come output se l'azienda cliente utilizzerà un fornitore in India che utilizzerà l'intelligenza artificiale e ci darà un file di dati dove c'è solo l'output che cosa io devo considerare? che quel fornitore in India debba sottostare all'AI Act o al regolamento che a maggio dovrà essere considerato applicato o dovremo solamente pensare che ha attuato le norme di quel contesto, di quella nazione, di quella country e a noi va bene così quindi penso che la comunità europea dovrà lavorare tantissimo ancora sul definire quali sono le regole del gioco di queste applicazioni e questa intelligenza artificiale penso che dovremo agire con dei nuovi regolamenti e tenere presente che il threat landscape di un'applicazione che utilizza l'intelligenza artificiale ha tutto un altro contesto grazie a tutti grazie a Marco Tugliani alla prossima